La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini, ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad En Casa per esempio. Pissen Group En Casa è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza avvalorati pensate dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina in casa è l'unica dotata del sistema brevettato ASL che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario. La tecnologia ASL è un brevetto esclusivo proprio del montascale in casa. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti a tasso zero a 12 mesi o a tasso agevolato fino a 48 mesi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre è possibile beneficiare anche della detrazione al 36% che permette di detrarre dall'imposta IRPEF tutte le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un montascale comprensive d'IVA. Quindi approfittatene subito. Potete recuperare fino al 36% dell'importo. Infatti si può ottenere un rimborso che copre circa il 36% della spesa. E ricordate, la detrazione al 36% è ottenibile da chiunque, sia dai privati che dai condomini. Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente. Il joystick, tra l'altro, ha anche funzione di chiave e togliendola nessuno potrà usare la vostra poltroncina. Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale. Affidatevi ad un'azienda seria come InCasa, non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, InCasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità. I consulenti InCasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Dotarsi di un montascale in casa oggi è veramente conveniente, anche grazie ai comodi finanziamenti in casa, a tasso zero in 12 mesi oppure a tasso agevolato in 48 mesi. Ed inoltre è possibile beneficiare anche della detrazione al 36% che permette di detrarre dall'imposta IRPEF tutte le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un montascale, comprensive di IVA. Quindi approfittatene subito. Potete recuperare fino al 36% dell'importo. Infatti si può ottenere un rimborso che copre circa il 36% della spesa. E ricordate, la detrazione al 36% è ottenibile da chiunque, sia dai privati che dai condomini. Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Se penso che da ragazzo passevo tre gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale, Allora, cosa ho fatto installare questa fotoncina? Bella, vero? Pavolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia? Per me può aspettare. Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina, sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore, senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso? Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma, da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, in sole due ore, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno, in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, sia al vostro fianco, sia in casa. I programmi di manutenzione in casa, inoltre, proteggono voi ed il vostro impianto, tutelandovi gratuitamente con una polizza assicurativa. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita!